Salga in podio, Fabrizio Segalerba. Eh ma mi ha rubato il tempo eh. Grazie. Credo in una FIAIP unita nelle sue differenze, generosa, accogliente, tesa all'etica della responsabilità e al senso di appartenenza. Credo in una FIAIP inclusiva perché ognuno di noi ha la propria idea di federazione ed è bello così, perché gli uomini passano, le idee si modificano, ma FIAIP è un valore che abbiamo l'obbligo morale di far crescere e trasmettere alle future generazioni. Coloro che quarantun'anni fa hanno dato vita a questa federazione perché hanno sentito l'esigenza di creare un sindacato di soli agenti immobiliari, libero, indipendente, senza padroni, autonomo, ci hanno trasmesso un bagaglio, un patrimonio di esperienze, conoscenze e culture che abbiamo l'obbligo di ampliare perché possa costituire la base per le sfide che ci attendono, memori di quel passato che troppo spesso abbiamo relegato a ieri, ma che ha permesso a molti di noi oggi di essere agenti immobiliari migliori. E io mi domando e chiedo a voi, ma che cosa sarebbe stata questa categoria senza quarant'anni di FIAIP? E allora con il patrimonio di esperienze e conoscenze che ci appartengono, io credo che dobbiamo iniziare a scrivere il nostro futuro con coraggio, determinazione ed ottimismo. E il futuro lo iniziamo a scrivere oggi, qua, il futuro e adesso, perché noi abbiamo la responsabilità di iniziare a scrivere tutti assieme una nuova pagina della storia federativa, una nuova meravigliosa pagina di quel libro che è FIAIP. E oggi, che è un momento importante al nostro congresso, iniziamo a scrivere questa pagina partendo dalle cose che ci accomunano e non da quelle che ci dividono. Viviamo oggi in un tempo di grandi cambiamenti, cambiamenti rapidi, intensi, a volte imprevedibili. Il cambiamento sembra diventato imprescindibile ormai nella nostra vita. Un cambiamento che ha portato a modificare anche quelle che sono state le nostre abitudini di vita, le nostre abitudini professionali, cambiamenti economici, sociali, culturali. E credo che se la nostra categoria vorrà essere attore, attrice, protagonista del cambiamento, senza subirlo passivamente, magari senza neppure accorgercene, il primo sforzo che noi dobbiamo fare è proprio uno sforzo culturale. Assieme alla squadra nella quale mi identifico e per la quale chiedo il vostro integrale sostegno, sono consapevole di dover affrontare nuove competenze e nuove conoscenze e di dover sviluppare quelle nuove sensibilità perché tutti assieme possiamo anticipare quelle che sono le esigenze della categoria. E tutto questo noi riusciremo a farlo se saremo in grado di partire da un progetto, il progetto degli agenti immobiliari per gli agenti immobiliari. Noi dobbiamo fare un progetto che metta al centro le idee e per fare questo dobbiamo iniziare a valorizzare quegli elementi determinanti che abbiamo già dentro di noi perché fanno parte di Fialp. Dobbiamo iniziare a valorizzare i nostri consigli provinciali perché sono la base, sono la spina dorsale della nostra federazione, sono coloro che sono a contatto con gli agenti immobiliari che ne conoscono le paure, le ambizioni, le necessità, le aspirazioni. Dobbiamo valorizzare le donne perché abbiamo bisogno della loro perspicacia, della loro sensibilità e dobbiamo valorizzare i giovani perché è loro il futuro, è loro il futuro di questa federazione e dobbiamo velocizzare quel cambiamento all'interno della federazione che troppo spesso è anelato e troppo spesso è celato ma nessuno di noi sopravvive a se stesso e allora dobbiamo consentire. Io credo che sia davvero importante per un dirigente creare una classe dirigenziale che possa un domani sostituirci e portare avanti questa grande federazione. Io sono consapevole che oggi qua davanti a voi assumo una responsabilità molto importante e se con il vostro sostegno, se meritorò la vostra fiducia, sarò segretario nazionale, lavorerò per una FIAIP solidale, attenta ai collegi, attenta ai collegi più piccoli, una FIAIP tesa alla sussidiarietà, una federazione che voglia fare sindacato, una federazione che valorizzi associazionismo e volontariato, una federazione che annulli le distanze nella comunicazione di luogo e di tempo, che parli negli uffici degli agenti immobiliari in ogni angolo del paese perché federazione la fai sul territorio. Voglio una federazione che sviluppi il dibattito interno, noi non abbiamo bisogno di confrontarci, da un confronto dialettico c'è sempre comunque crescita. Io voglio una FIAIP che viva di confronti e che non muoia di scontri. Ma oggi io sento il dovere di prendere un impegno qui davanti a voi e di fare una promessa. Se sarò segretario nazionale, sarò fedele interprete e severo custode della nostra carta federativa, scevro da qualunque condizionamento perché credo che sia la base della nostra federazione. E allora io ritengo che sia davvero importante partire da questo progetto che noi abbiamo creato. E se sarò segretario nazionale voglio essere vicino ai collegi provinciali, voglio fare in modo che ci sia comunicazione, che la FIAIP possa dare delle risposte, portare il comitato esecutivo vicino ai territori, ma non essere ingerente. C'è bisogno di amicizia, c'è bisogno di qualcuno che sia vicino e che ti dia una mano. In giunta sarà necessario che il segretario sia veramente quell'anello di congiunzione tra il comitato esecutivo e il lavoro dei presidenti regionali, perché se la giunta funziona, è straordinaria, si riesce veramente a portare avanti tantissime idee. Io credo che la nostra federazione sia davvero una macchina perfetta. Se qualche volta non raggiungiamo l'obiettivo il problema non è della macchina. Credo che dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questa federazione. Credo che dobbiamo essere anche ambiziosi, perché noi in FIAIP se una cosa la possiamo sognare, allora noi la possiamo anche realizzare. Grazie.